Ciao sono Vincent Transito e io Salvatore Avitabile, il nostro sponsor è Work In Progress, quest'anno che battiamo tutti. Ashby, va già, ci stiamo lavorando. Ciao sono Leonardo D'Antonio, ciao sono Francesco Suarino, ciao sono Silvano, ciao Enni e il nostro sponsor è Fratelli Bossa. E chi dica il migliore. Ciao! 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 Ciao!